I sindacati veriscono a questa manifestazione a livello nazionale ma anche a livello locale. Come mai avete deciso di appoggiarla? Il contenuto di questa manifestazione è evidente che guarda in avanti, guarda il futuro. Senza lungimiranza e una visione di paese, di crescita e di sviluppo all'interno del nostro paese, quindi anche della nostra città, credo che sarebbe un'ipocresia per il sindacato a starne fuori. La UIL di Verona quindi sta dentro questa manifestazione CTAV perché significa infrastrutture, significa posti di lavoro, significa non rimanere fuori dal sistema globale delle imprese, quindi giocare un ruolo ai tavoli delle imprese. Le imprese che ho sentito anche loro schierarsi, partecipare a questa manifestazione, credo quindi che la società civile, il mondo economico e il mondo della rappresentanza bene facciano ad essere presenti sabato 15 alle ore 10 e 30.